Anche i piedi disegnati a terra hanno lo stesso scopo. Eseguiamo delle rincorse vere, sinistro, destro, sinistro, cercando la giusta sequenza degli appoggi. In questo modo non solo c'è la giusta sequenza, ma anche la giusta ampiezza degli appoggi. Il sinistro è più corto del passo di destro che porta allo stacco.